Niente patti con i gruppi criminali. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione con cui si chiede agli stati membri di non pagare riscatti né attuare scambi di prigionieri con gruppi criminali per il rilascio di persone rapite. Appoggiata da Regno Unito, Stati Uniti e Francia, la risoluzione sottolinea che il pagamento di riscatti ai gruppi come Al-Qaeda è in aumento.